Ciao ragazzi, vi lascio immediatamente godervi la carriera perché so che non vedete l'ora, ma prima di partire sento la necessità di ricordarvi di un sito di cui vi sto parlando molto ultimamente ovvero Super Seri, ve lo lascio qui sotto in descrizione, vi lascio il link in particolar modo perché si tratta, come vi ripeto, quasi ogni settimana, ve l'ho detto anche in live l'altra sera durante Inter Napoli di un sito che vi permette di fare dei pronostici, esattamente di pronosticare 6 risultati esatti della prossima giornata di campionato e qualora li doveste azzeccare tutti quanti avrete la possibilità di vincere una diamante dal valore di 100.000€ quindi ovviamente è una grande opportunità, io ve lo consiglio, la partecipazione è gratuita ma dovete essere maggiorenni quindi questi i criteri principali, link in descrizione, adesso però vi lascio all'episodio Loro accettano, io ho paura che sia tanto, però comunque dai, un investimento di neprospettiva è chiaro che poi se ci chiede di rinnovare non gli rinnoviamo il contratto almeno per 3 stagioni Basic, dentro per Brian, che porta avanti il Bordeaux vuole il triangolare con Oniguru, si chiude ottimamente il triangolo, in mezzo c'è Jenson Ottimo pallone, e che azione del Monaco, 1 a 1 Io, perché non c'è la risposta? Io sono all'allenatore e tu stai zitto? Follande Pascia Florentino, dovrebbe partire Oniguru Adesso, il pallone verticale per Oniguru che può correre verso la porta e chiudere il discorso Oniguru, apre il piatto, fa 2 a 0 e spedisce Probabilmente il Monaco agli ottavi di finale Un gol per tempo, 2 a 0 il discorso Bentornati sul mio canale, benvenuti all'interno di questo nuovo episodio della carriera Esattamente il numero 9, siamo quasi in doppia cifra Tra l'altro parto subito scusandomi perché volevo aumentare la costanza di episodi Però purtroppo, nel momento in cui avevo deciso di caricarvene più di uno a settimana Si è messo in mezzo Trenitalia Perché, insomma, non so se avete visto l'ultimo video che è uscito sul canale Ve lo lascio qui sopra nelle schede e ve lo suggerisco Perché è la mia innesima giornata meravigliosa in questi anni Stavolta, ebbene sì, con Trenitalia Andate e ritorno, quindi due giornate al prezzo di una Detto questo, però, possiamo partire con un certo entusiasmo Perché ci siamo lasciati con un ottimo episodio In chiave mercato e in chiave risultati Perché li vedete lì in alto, l'1 a 1 contro il Bordeaux Il 2 a 0 in Coppa Di conseguenza, il nostro obiettivo di oggi è fare 4 su 4 Perché giocheremo contro l'Oriane, Rams E qua forse qualche punto possiamo perderlo Se non altro per la classifica Possiamo basarci esclusivamente su questo Perché il Rams è a pari punti con noi E la classifica la vedete, eccola qui Quindi noi al quarto posto E loro al quinto ma con 33 punti Per il resto affronteremo queste altre due squadre In questo episodio Quindi tanta Ligan Tanto mercato no Perché, come detto, ci siamo comportati bene Nello scorso episodio Però un piccolo obiettivo c'è Innanzitutto io vi ho lasciato con qualche quesito In uscita E quindi vi parlo di Golovin Che francamente ha mancato di rispetto all'allenatore E quindi in un futuro non molto lontano Può anche essere ceduto Vi parlo di quest'estate E poi in entrata In entrata mi avete detto Non andare su Mount Perché non sarebbe realistico E poi comunque costa davvero tanto Sono d'accordo con voi Mi avete consigliato Nikola Vlasic Del Seska Mosca Croato COC 23enne 5 stelle di piede debole Insomma è un giocatore Che può crescere tanto E che può essere molto interessante Non andiamo ancora ad acquistarlo Perché ho detto al nostro osservatore Di seguirlo Molto probabilmente Invece ne sapremo già qualcosina in più Nel post Lorian Quindi apriamo questo episodio Con la prima partita Provando a dare continuità Al nuovo modulo E alla nuova linfa Che abbiamo in questo 2021 Squadra in campo Al Louis de Monaco Per la sfida tra Monaco e Lorian La ventunesima giornata di Ligan Con la voglia Di fare tre punti Per centrare la prima vittoria In campionato Del nuovo anno solare E magari L'obiettivo è anche quello Di far segnare Vissan Ben Yedder Perché Non ha ancora Trovato il leggoal Nel 2021 Ma abbiamo giocato Soltanto una partita In Ligan Due totali E lui In particolar modo Ne ha giocato soltanto una Perché Ha riposato in Coppa Dove Comunque È arrivata una vittoria Preziosa Una vittoria che ci fa Che ci permette Di continuare L'obiettivo Mentre qui Ma io ormai sono Basito Spiegatemi perché E ditemi soprattutto Nei commenti Se nelle vostre carriere I vostri allenatori Sono vestiti Con la maglietta del Monaco E che viene allontanato Raccoglie Aguilar Florentino Subito dentro Falla geniale Gelson Con il mancino In Ardì Ancora in calcio d'angolo Ma che palla Aveva dato Florentino Sempre 0-0 Qui Badia Schill Polla sul suo avversario Salemakers da Fofanab Nieder a Rimorchio Per Salemakers Che poi la riscava Per il capitano Prende il tempo E poi scava Con il mancino Segnando un gol Straordinario Il primo Del nuovo anno solare Per Vissam Che dopo 13 minuti Porta avanti Il Monaco Quindi il possesso È tornato Alla Lauriane Che prova a verticalizzare Ma c'è Aguilar Gelson Martins Sposta il pallone Può lasciare lì Etienne In mezzo Prende già posizione Ben Yedder Gelson ha preso il fondo Può metterla adesso Eccolo il cross Vissam Ben Yedder 2-0 In 20 minuti Per un grandissimo Monaco Ancora Bozok Cerca spazio E poi Ayer Gli dice Di no Quindi Salemakers Con vicino Ben Yedder Suggerimento che arriva Ripartenza Monaco Andando il Belga Dentro Lo ha visto Ben Yedder Occhio alla chance Ancora per Salemakers Punta le fide Deve attendere Lo fa bene E allora Ben Yedder Potentissimo E sull'incrocio Dei pali Poteva far Tripletta In 33 minuti Non sarebbe una novità Aguilar Vuole prendere il fondo Poi ricomincia Da Jenson Arriva dentro Fofanamole Lo spazio Trova Salemakers Al limite Si gira su se stesso Poi serve Ben Yedder La scava ancora La scava ancora Un altro gol Illegale Per Vissam Ben Yedder 25 In campionato In 21 giornate Sempre gol pazzeschi Altro cucchiaio sublime Altro gol Meraviglioso E altro assist Di Salemakers Quei due Si capiscono Mentre il Lorian Dorme Come il suo portiere Che qui poteva Quanto meno provarci Ma Con il contagocce Ben Yedder L'ha messa dentro Florentino Di prima Su Salemakers Difende col fisico Torna da Florentino Facciamo quello che vogliamo E qui Ben Yedder Manda pure in porta Fofanà Che può correre Per regalarsi La gioia personale E la trova Con il poker 4-0 Forse Ben Yedder Lo sta rincorrendo Per insultarlo Più che per insultare Perché poteva fare poker Ben Yedder Poco cambia Perché ne ha fatti 25 in campionato E non sono proprio pochi 4-0 Monaco Se neanche Fofanà Etienne Per Vissam Ci apriamo dentro Perché Agliar è fuori di posizione Vissam Prova ad andare fino in fondo Ha chiuso Aguilar E il Monaco può ripartire Con Florentino Che resiste alla carica E poi Manda Ben Yedder La porta Lo rincorre Ben Yedder è più rapido Punta il portiere Ben Yedder con la suola E fortunato Poi altro cucchiaio Altro gol Altro poker Sono 5 del Monaco Sei illegale Capitano mio 5-0 Un quarto tra Dalla fine Ha aperto Ha aperto Su ballo Thure Sta andando Verticale Oniekuru Servito sui piedi Thure Non parte più Oniekuru Allora da Iovetic Centrale anche Di Hop Ma la partita Finisce Proprio mentre Attacca Ne ha fatti Quattro In una sola partita Che non è Un qualcosa Di inedito Perché lo ha già fatto Anche nei primi Sei mesi Finisce 5-0 Nel segno Di Ben Yedder Se posso Nel segno Di Salemakers Nel segno Di un grande Monaco Contro un avversario Assolutamente inferiore Motivo per cui Vi dico Non facciamoci troppo Influenzare Da questa partita Così come non dobbiamo Farlo in passato La Ligan Più la giochiamo Più lo impariamo È un campionato Che alterna Squadre di livello Realmente Ostico A squadre Molto scarse Come il Lorian Perché oggi Lo ha dimostrato Grandi limiti Bravi noi davanti Ma non è una novità Felicissimo Per non aver subito gol E adesso Ovviamente Dobbiamo capire Cosa succederà Già contro il Rams Che deve ancora giocare Quindi noi Seguiamo la loro partita E poi naturalmente Ci giochiamo contro Nel frattempo Nota di merito Anche per Bendit Bagliashil Che Era stato uno dei Possibili Partenti a gennaio Anche se poi Avevo escluso la sua cessione E voi siete stati anche D'accordo con me Ha fatto una grande partita Aveva chiesto di giocare Lo abbiamo fatto giocare Al posto di Di Sasi Grande match Grande match Anche per lui Lì dietro Quasi meglio di Di Ayer E non è semplice Per quanto riguarda Vlasic Per il momento Sappiamo Il valore di mercato Che è di 40 milioni Praticamente Ora Insieme Andiamo a controllare Un attimino Lo stanziamento Budget E capiamo Capiamo Dove Possiamo Limare E se possiamo Arrivarci economicamente Vedete Abbiamo in questo momento 28 milioni Però magari si può sistemare un po' No Neanche troppo in realtà Perché Se forziamo Finisce così Ma chiaramente Non abbiamo Il budget Poi per gli stipendi Possiamo fare quindi Un qualcosa di diverso Quindi Arrivarci Con uno scambio Ad uno come Vlasic Allora Sarà il destino Ma stavo controllando Quali giocatori poter scambiare E nei vari ruoli Effettivamente Il reparto In cui siamo un po' più larghi E l'attacco E sapete Perché ve lo ripeto Praticamente in ogni episodio Che Folland Con me Non vedrà mai il campo Cioè Tu vuoi 62 milioni 62 milioni Non te li do mai Ti offro Ma neanche 20 Ti offro 15 milioni Più Folland Ragazzi Non giochiamo Se no Folland Lo vendo di Di suo E poi torno A trattare con voi Ma non posso Sprecare la possibilità Di vendere Folland Se poi tu non me lo valuti Come giocatore Utile Da un punto di vista Di prezzo Non l'hanno presa bene Non l'hanno presa bene E sapete quanto A me Non vada giù Quando reagiscono In questo modo Però non l'hanno presa bene Quindi Facciamo così Io Folland Lo metto in vendita E vediamo Speriamo Sogniamo Che arrivi un'offerta adesso Se no Rimaniamo senza Quell'acquisto lì Che è appunto Il trequartista Siamo comunque coperti Se vogliamo Io sale manca Se l'ho provato L'ho provato apposta Per il momento Testa Al Reims Giochiamo in trasferta Contro una squadra Che adesso è a meno tre Perché quanto pare Ha perso La sua partita Eccola lì A 33 punti Dopo 21 Reims Che ha perso Contro il Mimes Ma a noi Non importa Assolutamente Perché ogni partita È a sé Ciao Valerin Florentino a disturbare E a chiudere Subito pallabuona Per Ben Yedder Che vuole pedalare Va Ben Yedder E finisce giù L'intervento di Abdelhamid Il capitano del Reims Che prende il giallo Secondo me Anzi Solo richiamo verbale Perché l'animazione Ormai la conosco a memoria Fofana Florentino Disasi Ballotourè Vicino Florentino Davanti Ben Yedder Dentro Va Oniekuru Servito dal capitano Apre il piattone E mette in porta Il gol Dell'1-0 Avanti il Monaco E momentaneamente A più 6 Sul Reims Con la genialità Non soltanto In fase Gol Ma anche assist Del nostro capitano Che regala Ben Yedder Un pallone d'oro Lui apre il piattone E mette dentro Il gol Dell'1-0 Piano piano Florentino Con calma Va profondo Oniekuru La palla invece Per Ben Yedder Che si abbassa a ricevere E parte con il pallone Va in progressione Poi buca ancora per Golovin Si apre il Reims Che sta difendendo malissimo Golovin di tacco Fofana Rajkovic Ballotouré Florentino Sono aperti centralmente Quindi Golovin Aspetta Ben Yedder Che gli porta via L'avversario E quindi Golovin passa Passa anche con il rimpallo Sinistro E 2-0 Monaco Segna il russo Con un po' di fortuna Al settimo Del secondo tempo Fortuna sì Nel saltare Fes Ma l'idea Era quella giusta Perché Ben Yedder Porta via un paio Di avversari E allora Golovin La sposta sul mancino Poi è freddo Di fronte A Rajkovic 2-0 In quello che Ricordiamo essere Un importantissimo Scontro diretto Poi testa Di Ayer Quella di Berisha Fouquet A lanciare Su Florentino Che disturba Quindi Ben Yedder Fa salire ancora Golovin Lo serve Per il 3-0 Che arriva Doppietta di Golovin Non perdoniamo mai E stiamo crescendo Tantissimo Perché dietro Non concediamo Praticamente nulla Avete visto Palle goal In due partite Non mi sembra E davanti Segniamo tanto 3-0 Ancora Golovin E in quella posizione Va detto È devastante Florentino Apre ancora a destra Sul 56 Che adesso può sfruttare Un po' di campo Perché Conanna Gli lo permette Taglia Salemakers Non lo prende nessuno Va fino in fondo Salemakers Rajkovic Ancora rimandato Il primo gol di Salemakers Con il Monaco Sterza Stavolta trova Poli All'interno dell'area Disa Sì Gli cancella le idee Gli porta via il pallone Fa ripartire il Monaco Guardate la Corsa di Oniekuru Lo serve Di Zasi E allora va in campo aperto Il numero 7 Sempre Oniekuru Che apre E chiude Il discorso In questa partita Nello stesso Identico modo Destro a giro Sul palo lontano 4-0 Monaco E sono fischi Sul Rams Eccolo qui Golovin Arriva a destra Con Montrano Salemakers Che entra in area Al centro Ben Yedder Salemakers Sterza Poi crossa Golovin Abdelhamid La palla resta lì Però E poi Ben Yedder Non ci credo E poi Ben Yedder 5-0 Va bene così Hanno fatto la brittata 5-0 Monaco Ma Ben Yedder In un momento in cui La palla gli sbatte addosso Sempre e comunque Non aveva segnato oggi Eppure Succede questo Sono 27 Per la cronaca Doveva essere Uno scontro diretto È stata un'umiliazione Del Monaco Nei confronti Delle Rams Finisce 5-0 Il secondo di fila Dopo I 5 gol Rifilati a Lorient Avevo Annunciato Che sarebbe stata Un'altra partita Mi sbagliavo Fortunatamente Ma noi dobbiamo Continuare A rimanere Con i piedi per terra Perché quando abbiamo Abbassato la guardia In questa stagione Abbiamo complicato E non poco Il nostro percorso Dunque Prima di andare a leggere Quello che ci scrive Folland In ufficio Volevo anche mostrarvi Così Per onor di cronaca I migliori acquisti Di questo mercato Di gennaio Come vedete Sono ancora prezzi Che Per il momento Almeno Non ci riguardano Perché Per 85 milioni Gnabri Diventa una giocatore Della Juve Tra l'altro Anche perché Il Bayern Ha acquistato Obama e Young Fabian per 84 Quasi 85 Passa dalla Napoli Al City Mentre Gades Diventa una giocatore Dell'Ipsia Ora Andiamo in ufficio Siamo nelle ore Calde Del mercato Perché Folland È in partenza E ci scrive Che apprezza la decisione Ma Voleva essere interpellato Ora FIFA 21 Ci spiegherà Il senso di questa mail Visto che Non possiamo Interpellare i giocatori Però Va bene così È un po' autistico FIFA Effettivamente Ogni tanto Detto questo La risposta Che ci sta un po' di più È Questa D'accordo Anche lui E lo sappiamo Troverebbe più spazio Altrove Mentre CDB Vorrebbe giocare di più E ci dà massima disponibilità Quindi noi lo apprezziamo Rientri nei miei piani Non ne preoccuparti Non avrei dato questo tipo di risposta Ma era sicuramente la più adatta Tra le tante Perché la realtà è che CDB può giocare E lo farà Perché la stagione è lunga C'è anche la coppa A proposito Ora andiamo a vedere Contro chi Giocheremo Il pari intanto Ha battuto Il Lione Nello scontro diretto Quindi con la più 6 Mentre noi dobbiamo aspettare Il risultato del Marsiglia Per capire Se siamo terzi O quarti Dunque Mercato chiuso E pareggio del Marsiglia Quindi pari punti Momentaneamente Noi siamo messi meglio Per scontri diretti Ed evidentemente Anche differenza reti Siamo terzi Noi E quindi forza Forza Perché abbiamo già migliorato La nostra classifica In sole 3 partite Del girone di ritorno Marsiglia che nel suo tempo Ha già giocato la sua partita Vincendo E quindi noi dobbiamo rispondere Contro il Lens Se non ricordo male Ne abbiamo fatti 5 Questo avversario Era la prima di campionato Veniamo da due Pocherissimi consecutivi Diamo continuità ragazzi Forza E' la via di mezzo Tra due Manite consecutive E altre due Partite fondamentali Contro il Montpellier Per capirci E' quella partita Che Tecnicamente Si può anche affrontare Con più distrazione E di conseguenza Si può sbagliare E' per questo Che serve massima concentrazione Anche stasera Per non permettere Al Marsiglia Di tenersi Il terzo posto In classifica E per continuare Ad inseguire L'obiettivo stagionale Con il leggero turn over Si affronta La partita di stasera C'è Salemakers Al posto di Golovin C'è Sidibea Al posto di Aguilar E c'è la palla verticale Vallo Touré Che crossa subito Ben Yedder 2.39 Sul cronometro Ormai Ci abbiamo preso gusto Con queste partenze E che lo dico a fare Con i gol del capitano 28 In campionato 1 a 0 Causac Fabregas Gli sposta il pallone E lo fa suo Jovetic Da Salemakers A destra Celson Palla invece interna Per Jovetic Gran idea A sua volta Yo-Yo Lascia il pallone A Fofana La presa Farinez Signori Parola incredibile Di Farinez Che salva i Lenz Merita un replay Questo intervento Grande intervento A mano aperta E poi l'altro Fofana Cacuta per Lasagna Va dentro Il neo entrato Ma si salva ancora Il Monaco Che sta concedendo 0 A tutti gli avversari Jenson da Jovetic Un po' di campo E l'ingresso in area Ma è defilato Jo-Yo Tacco Per Celson Rimorchio Salemakers Eccola La prima volta Con la maglia del Monaco Alla quinta partita In cui Ciprova Trova il 2 a 0 Trova il suo primo Gol Con Il club francese Ed è un gol Strameritato Per un talento Per il quale Stravedo E che si è inserito benissimo Come assist man Perché ne ha fatti due In una sola partita Per Ben Yedder E poi qui Un gran sinistro Dove Farignels Non può arrivare Esulta Con sua abilità Di outfit Federico Marconi E raddoppia il Monaco Finisce Finisce Così 2 a 0 Del Monaco Che batte anche Il Lens 12 gol Nelle ultime 3 partite Senza Subirne 9 punti In campionato Questo È forse Il momento Più roseo Della stagione Del Monaco Momento Straordinario In cui Ben Yedder Continua a segnare In cui anche gli altri Fanno molto bene L'ultimo È Salemakers Che oggi esulta Col pugno chiuso Perché si slocca anche lui Vediamo Con quale classifica Li affronteremo Perché a parte Le prime due Che non sono neanche così Raggiungibili Oddio sì Effettivamente Siamo a meno 11 Da Lione Ma va bene Il nostro obiettivo È quantomeno questo Quanto meno il terzo posto Il Montpellier Nono Con 32 punti Quindi in questo momento A meno 10 da noi Ma non facciamoci In cambiamento della classifica Che poi Viene chiusa Dal Mets A 10 punti E poi via via Tutte le altre Abbiamo affrontato È vero Lorian e Lenz In questo episodio Ma è altrettanto vero Che abbiamo affrontato Per esempio Il Renz Che è sesto in classifica Adesso Era quinto Prima di affrontare noi E comunque sia 5 gol Ieri abbiamo fatti Io ne approfitto Insomma In questo momento Prima di andare a giocare Con il Montpellier Queste sono le informazioni Le impostazioni Pardonne Ogni tanto mi sale Anche la dislessia Difficoltà estrema Che è il massimo Come vedete Con modalità competitiva No E quindi Queste a proposito Sono le altre impostazioni Tutto legale Tutto meraviglioso Un momento straordinario Di un grande Monaco Mentre Aguilar Dopo nulli L'unica partita Che non gioca Ci ringrazia Per le presenze È meraviglioso FIFA e il tempismo Stiamo apprezzando sempre di più Questo gioco In questi anni Apprezzo il tuo impegno E allora Possiamo anche Andare a mettere la testa Sulla sfida Contro il Montpellier Perché manca Veramente Veramente poco Due giorni In un frattempo Ne approfitto Per ricordarvi Che il nostro obiettivo È quello della Champions League E quindi La seconda stagione Sarà da seguire Al 110% Al 200% Anche perché Ci saranno delle novità Naturalmente Che serie è Che Federico Marconi è Se non ci sono novità Tecniche E estetiche Quindi assolutamente Seguitela al massimo Ma intanto Arriviamoci In Champions League Mentre la classifica Marcatori È un qualcosa di umiliante Per tutti Ma noi siamo contenti di questo Giochiamo Sulla campo Della Montpellier Dopo la sconfitta Dell'andata Bisogna Archiviare Le tre partite Che abbiamo vinto E pensare solo A questa E giocheremo Con queste condizioni Mentre Hilton Alla fine della stagione Presumibilmente Si ritirerà Nevica Sul campo Delle Montpellier Sulla 24esima Giornata Di Ligan L'ultima volta Che abbiamo giocato Sotto la neve Abbiamo pareggiato Trasferta insidiosa A Bordeaux Rischiando di vincere Peraltro Perché ci fu Quello rigore Sbagliato Da Benyeder Ricomincia Da Di Sasi Ayer Su Touré Vediamo anche se il pallone Rimbalza come al solito O diventa un problema Nel fraseggio Intanto Golovin Trova subito un corridoio Centrale Poi serve supporto Cofan Ancora Golovin Si è liberato Benyeder Al limite La fa girare Mamma mia Che semplicità Nel piede Di Vissam Benyeder 5 e 12 Sempre la stessa cosa Sempre 1 a 0 Se è troppo facile Ditemelo Con questo signore Avanti il Monaco Anche sul campo del Montpellier Savanier Occhio alla palla verticale Per Keirney La risposta del Montpellier E Lecomte A sua volta Dice di no Prima palla goal Avversaria In questo episodio Facciamo attenzione Keirney Vuole ancora De Lort Sta prendendo molto campo Il Montpellier Occhio a Di Sasi E poi l'apertura su Oyongo Ferri Dentro De Lort Si è girato E ha pareggiato 1 a 1 Al diciottesimo Monaco che torna A prendere gol Dopo 3 partite E 11 minuti E 18 minuti Pardon Se contiamo anche la Coppa Sono 4 le partite Evita Toure Che però non lo molla Soche Al limite Attenzione a carne Keirney Ancora De Lort E ancora Lecomte Pazzesco Lecomte Perché potevano farcene Almeno 3 Ha trovato Salemakers Sta partendo Benny Eder Salemakers lo vuole mandare Vediamo se parte Il capitano Nonostante la neve Parte Il capitano Nonostante la neve Corre fino in fondo E poi piazza Bertò Ha detto no Altra apertura su Jelson Che converge C'è Salemakers vicino Servito Va dentro Niekuru Non può non essere servito La scava Chiedo scusa Chiedo scusa Non so perché mi sia venuta in mente Questa cosa Chiedo scusa Lì devi buttare giù la porta Però Bene noi Infatti continuiamo a Palleggiare Con Onyekuru Benny Eder Stavolta tagliare Jelson Non è servito fino in fondo 2-1 Monaco Sbagliamo una volta Non la seconda Destro secco E 2-1 Il Montpellier In questi primi 20 minuti Del secondo tempo È stato a guardare Savanier Passa nello stretto Unilock Di Zazì Gli fa soltanto sentire Il fisico Quel tanto che basta Per fargli perdere L'equilibrio E il possesso Contropiede Jelson Martins Benny Eder Aspetta e poi va verticale Per Salemakers Rientra La fa girare Vola Berto Era il match point Per il Monaco Diciamo che a parte invertite Salemakers Per Benny Eder Questa palla gira E finisce in porta Angolo di Martins Verso Florentino Che la prende Fa 3-1 Finisce così Con la disperazione Del Montpellier Con una grandissima sofferenza Nel primo tempo Del Monaco Che oggi Più che mai Dimostra di essere Una grande squadra Perché poi Gioca un grande secondo tempo Con le accortezze Con i cambi giusti E oggi Golovin Forse non parla Nonostante la sostituzione 3-1 Si vince anche Sul campo del Montpellier Con il secondo gol In campionato di Florentino Questo è tutto suo Perché se ricordate Il primo Era secondo me Autogol Ma poi Venne dato a lui Quattro vittorie Su quattro In questo episodio E vi ricordo Che Il prossimo Poi si aprirà Con questa sfida Una sorta di 2.0 In Coppa di Francia Un altro potenziale obiettivo Per provare Ad alzare un trofeo In questa stagione Visto che di Ligan Forse ancora prematuro Parlare E allora Sarà arrabbiatissimo Il Montpellier Proverà anche a vendicarsi A vendicare questa sconfitta Che alla vigilia Non era clamorosa Ma per come Hanno affrontato Il match Soprattutto nel primo tempo Diciamo che La mandano giù A fatica E finisce così 3 gol Altri 3 gol 15 In quattro partite Uno solo subito Questo è il nuovo Monaco Di Federico Marconi Post gennaio Col 4-2-3-1 Con i vostri consigli Più preziosi che mai Continuate A lasciarmeli qui sotto Me ne avete dati anche Su Instagram Per migliorare La serie Sotto tutti i punti di vista E li vedrete piano piano Non da subito Da un episodio dell'altro Probabilmente Dalla seconda stagione Quindi continuate A seguire A supportare questa serie Ci salutiamo così Con la grafica Delle 3-1 Ciao